Amore, dobbiamo uscire, dai. Eccomi, sono pronta. Hai imparato tutto quello che devi dire? Eh certo, sono due frasi. Ma che ci vuole? Allora io vi dico cosa dovete fare, ok? In bocca al lupo, amore. Grazie. E dai, che ci vuole? Portanti guarda avanti. Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS